Salve a tutti ragazzi, oggi andiamo a vedere come creare un bot di training automatico con FairBot. In questo video andremo a vedere perché automatizzare il training sportivo, andremo a vedere più in dettaglio FairBot, l'automazione avanzata, come implementare le strategie che si compongono di regolazioni e condizioni e poi andremo a vedere un esempio di implementazione di un bot con Stop Loss e Stack Profit. Perché automatizzare il training sportivo? L'automazione permette di eliminare le mozioni del training manuale e attuare in modo sistematico il money management. Come sappiamo le mozioni sono la principale fonte di errori, della ricerca, dell'inseguimento delle loss, del cercare di recuperare le perdite, quindi esponendoci anche a rischi sempre maggiori e portandoci spesso alla rovina. L'automazione permette di evitare tutto questo. L'automazione permette di effettuare il backtest in strategie in modo molto più veloce perché possiamo applicare le strategie su tante partite contemporaneamente e quindi avere un record, un set di dati molto più grande e in un tempo molto più ridotto. Inoltre l'automazione permette di effettuare tante operazioni con basso rischio e basso capitale in modo da accogliere tante opportunità di mercato e permettendoci di farci guadagnare tempo. Ad esempio se volessimo fare delle operazioni dove si guadagna pochissimo questo ci porterebbe sicuramente anche a livello psicologico a commettere errori perché dopo un po' il nostro focus andrebbe a farsi benedire. Invece attraverso l'automazione riusciamo a evitare tutto ciò e a farci guadagnare quel tempo libero che poi è uno degli scopi per cui facciamo trading. Inoltre l'automazione permette di velocizzare l'esecuzione dei thread perché un conto è fare un thread in modo automatico e un conto è farlo manuale dove dobbiamo comunque effettuare più click per inserire l'operazione nel mercato. Per parlare di automazione avanzata in Fairbot dobbiamo introdurre il concetto di strategia. La strategia in Fairbot non è nient'altro che un insieme di regole e ogni regola a sua volta è formata dalle impostazioni generali, dall'azione da compiere e dalle condizioni che una volta soddisfatte portano a effettuare quella determinata azione. A destra ho portato uno screenshot del pannello di inserimento regola in Fairbot. Come possiamo vedere abbiamo il tab generale che corrisponde a impostazioni generali in cui immettiamo le condizioni relative al quando e quante volte dobbiamo effettuare una determinata azione. Poi abbiamo l'azione che è il tipo di operazione che dobbiamo effettuare nel mercato e poi le condizioni che triggerano quella determinata azione. In questa slide ho rappresentato un esempio di regola. Nelle impostazioni generali abbiamo 60 minuti dopo l'inizio dell'evento, l'azione da compiere, immetti bancata a quota 2 sul pareggio e la condizione che innesca quest'azione è se il risultato è uguale a 0. Cioè se il risultato è uguale a 0, immetti la bancata a quota 2 sul pareggio quando 60 minuti dopo l'inizio dell'evento. Quali sono i passi per costruire un bot in Fairbot? Allora innanzitutto bisogna definire la strategia da implementare a parole utilizzando il costrutto SE per le condizioni e allora per l'azione. Dopodiché si andranno a estrapolare le regole e le condizioni magari anche utilizzando dei diagrammi di flusso e alla fine si andrà a implementare il bot su Fairbot. Per quanto riguarda la definizione della strategia dobbiamo descrivere a parole quello che dovrà fare il bot. In questo caso ho messo la strategia del bot che andrò a implementare come esempio e in live il bot deve bancare il pareggio a quota sotto a 2 una volta immessa la bancata in caso di goal se il profitto è maggiore di 5 allora il bot deve uscire in cash out in tech profit se il loss è minore di 3 allora il bot deve fare cash out in stop loss quindi andremo a realizzare un bot che andrà a implementare una strategia di money management con un rapporto rischio rendimento 3 a 5 cioè 1 a 1,66 una volta definita la strategia a parole dovremo estrapolare le regole che poi andranno che dovremo poi implementare in Fairbot ed ecco perché nella definizione della strategia dobbiamo mettere i costrutti se e allora perché quello che sta dopo se praticamente rappresenta la condizione l'allora, quello che sta dopo all'ora rappresenta l'azione da fare e quindi in questo modo potremo facilmente estrapolare quali sono le regole la prima regola quindi nel mercato live immetti la bancata a quota sotto al 2 ovviamente qui non c'è una condizione perché la condizione può essere anche facoltativa in Fairbot per quanto riguarda la regola 2 se il profitto è maggiore di 5 quindi questa rappresenta la condizione allora esci in tech profit la regola 3 se il loss è minore di 3 allora esci in stop loss nel caso doveste fare delle strategie molto complicate può esservi di aiuto crearvi un diagramma di flusso in questo caso io utilizzo Creately e questo diagramma di flusso per il bot che andrò a implementare ovviamente qui non ho messo diciamo le specifiche come ad esempio il valore ma i valori dei tech profit e dello stop loss ma li ho messi in modo astratto e ogni diciamo ogni rettangolo rappresenta un'azione come potete vedere mentre ogni rombo rappresenta una condizione mentre quest'altro quest'altra figura questo parallelogramma rappresenta un processo interno a fairbot quindi laddove c'è un'azione ci sarà comunque dietro una regola cioè ogni regola deve contenere un'azione e ogni regola può contenere come abbiamo visto più condizioni quindi in questo caso qui in metti bancata quota x sarà contenuta in una regola mentre la condizione vediamo la parte di sinistra loss e minima di stop loss e hash stop loss rappresenteranno un'altra regola mentre nella parte destra abbiamo visto che questo rombo più il quadrato rappresentano una regola da implementare su fairbot innanzitutto su fairbot la prima cosa che dobbiamo andare a fare è attivare la modalità simulazione in modo tale da fare pratica e non mettere in gioco del donato reale basta andare su file selezionare modalità simulazione e premere ok vedete che qua adesso avrete la modalità simulazione siamo su fairbot andrò a cercare la partita vedete Leeds Arsenal ora seleziono il mercato esito finale vado su strumenti gestione strategie qui andrò a crearmi una nuova strategia vedete qui ho tutte le liste di strategie già disponibili adesso andrò a rinominare la mia strategia la chiameremo Lei The Draw a secondo tempo e poi ovviamente andremo ad impostare le tre regole quindi facciamo aggiungi regola qui mettiamo la prima regola che sarà il banca pareggio banca pareggio dovrà essere effettuato in live quindi l'azione sarà proprio quella di immettere la bancata quindi selezioniamo banca e poi la selezione sarà appunto il pareggio perché dobbiamo bancare il pareggio selezioniamo la quota qui vogliamo bancare e lo stake di 10 e tieni in modo tale che per tenere appunto la bancata adesso aggiungiamo un'altra regola che sarà il tech profit quindi scriviamo tech profit selezioniamo l'azione cash out globale poi andiamo su tieni e selezioniamo la condizione selezioniamo la condizione di cash out globale quando il profit e il loss è maggiore di 5 allora usciremo in profit e poi cloniamo la regola la rinominiamo perché comunque dobbiamo sempre fare il cash out quindi quando il cash out è minore di meno 3 allora in questo caso usciremo dal mercato in stop loss dovete salvare le vostre regole potete clonare impostare impostare nuove strategie e adesso vedete che adesso andiamo a vedere vedete nelle automazioni adesso avremo nel tab automazioni avremo la possibilità di selezionare la nostra strategia vedete tutte le regole e praticamente la bancata avviene subito perché ho impostato nelle regole nelle regole delle impostazioni generali ho impostato di metterla live quindi senza aspettare perché si può appunto impostare anche il momento in cui l'azione deve essere deve essere effettuata qui andrò a rinominare la mia regola per quanto riguarda lo stop loss perché l'avevo denominata in modo errato quindi potete vedere che anche quando l'automazione sta già funzionando potete anche cambiare le regole nel frattempo come potete vedere quindi questa è l'insieme alla lista delle regole che abbiamo impostato ovviamente le altre due regole innescheranno le azioni in caso appunto di un gol o se la perdita comunque sarà minore di 3 il Fairbot andrà a inserire appunto un'operazione per effettuare lo stop loss vedete che il Fairbot automaticamente ha impostato la bancata che ancora non è stata non è stata abbinata e ovviamente come dicevo prima nelle impostazioni generali potete impostare quando il software deve entrare al mercato quindi potete fare dall'inizio della partita dopo 60 minuti in live eccetera eccetera quindi potete veramente impostare tantissime tantissime regole ecco vedete adesso l'operazione sta abbinata quindi la bancata è stata abbinata andiamo a vedere un attimo su diretta hit come stanno messe le due squadre l'Arsenal ha subito un'espulsione ci potrebbe essere un gol ovviamente ho preso questa partita solamente come esempio per la creazione di un bot quindi non è che l'ho analizzata è la prima che ho appunto trovato in cui il risultato era 0-0 dopo il settantesimo e quindi vedete che qua il leads sta spingendo per poter andare in vantaggio il leads solitamente è una squadra che segna l'Arsenal pure e quindi comunque sono in modalità simulazione on quindi non mi importa diciamo del profitto è solo per un esempio per farvi vedere come funziona l'automazione in Fairbot quindi qui adesso vediamo che siamo a 2 euro di loss quindi se andiamo sotto meno 3 si dovrebbe impostare automaticamente lo stop loss quindi a meno 3 euro dovrebbe scattare automaticamente l'operazione che mi permette di uscire con lo stop loss vediamo se raggiungiamo meno 3 per farvi vedere appunto quindi siamo a meno 2 nessuna delle due squadre fino adesso è riuscita a segnare siamo all'ottantesimo quindi questa comunque è un'operazione con rapporto rischio rendimento di 5 a 3 perché 5 di profitto e 3 di perdita perché appunto facciamo il calcolo sul tech profit e sullo stop loss adesso aspettiamo fa vedere se veramente appunto Fairbot uscirà in stop loss a questo punto non vedo non vedo gol l'arsenal non sta facendo nulla il leads fatica a segnare quindi probabilmente l'automazione dovrebbe uscire in stop loss garantendoci comunque di contenere le perdite su una responsabilità appunto di 9 euro vediamo che succede ovviamente c'è la possibilità anche di selezionare altre condizioni ad esempio potete anche selezionare il risultato esatto quindi di impostare la bancata solamente nel caso in cui ad esempio il risultato esatto sia di 0 a 0 oppure anche sul numero di gol oppure se volete effettuare questa strategia ad esempio sull'1 a 1 insomma potete impostare anche altre altre condizioni questa quindi è un'impostazione che va fatta sulla prima regola quindi impostare questa condizione sulla prima regola in modo tale che si attivi la strategia solamente nel caso in cui il risultato sia di 0 a 0 io non l'ho fatto perché comunque effettuo diciamo metto in pratica questa strategia anche in caso di 1 a 1 di 2 a 2 0 a 0 insomma dipendentemente comunque dalle statistiche comunque una strategia più generale perché più condizioni mettete più comunque filtrate le partite e ovviamente avrete anche meno partite da meno operazioni che effettuerete qui siamo a meno 2,75 di loss e come potete vedere ancora non si è attivata perché appunto lo stop loss si attiverà quando arriveremo a meno 3 ecco questo invece è un po' diminuito il loss meno 2 34 meno 2,5 ok ok ora siamo siamo a 2,75 di loss vediamo se scatterà l'automazione aspettiamo vediamo vedete che il profitto e il loss sta variando ecco siamo a 2,93 vediamo quando quando saremo a meno 3 dovrebbe scattare e il software dovrebbe farci uscire in stop loss siamo a meno 2,84 ok vedete che siamo a meno 3,11 quindi Fairbot sta inviando vedete è già stata eseguita l'operazione ha puntato il pareggio a 1,45 per 13,11 per poter appunto effettuare lo stop loss quindi vedete che l'automazione ha funzionato quando appunto la perdita era minore di 3 euro la nostra regola ha innescato l'azione di puntata sul pareggio per cui siamo usciti in stop loss quindi diciamo che vedete non è difficile creare un'automazione su Fairbot una cosa che l'ho detto appunto è che nelle impostazioni generali potete selezionare varie opzioni come il numero di esecuzione delle varie azioni l'ora alla quale appunto questa azione deve essere effettuata poi qui per quanto riguarda le azioni avete tantissime opzioni io ho messo piazza scommessa perché è quella che vi permette di effettuare semplicemente punta e banca è veramente molto semplice usare inoltre la scelta selezione potete farla per riga per riga vuol dire in base all'ordine presentato sullo schermo per posizione vuol dire in base ai numeri vedete che ci sono dei numeri accanto alle squadre in giallo verde e rosso quindi vuol dire che farete in base a quei la selezione in base a quei numeretti e invece avete poi per nome vuol dire in base al nome della selezione quindi leads arsenal o pareggio quindi questo potete comunque fare le vostre simulazioni e vedere come funziona qui vedete potete selezionare il tipo di scommessa banca o potete farlo a varie quote differenti potete selezionare l'opzione fill or kill e poi una cosa interessante io nella mia condizione ho utilizzato quota disponibile ma selezionando quota redditizia bisogna anche selezionare il numero di esecuzione maggiore di 1 proprio perché Fairbot andrà a puntare o a bancare dipendentemente dalle condizioni più volte per poter farvi guadagnare o perdere di meno per informazione la partita è terminata 0-0 nessuna delle due squadre è riuscita a trovare il gol allora in questo video vi ho fatto una panoramica sulla tomazione di Fairbot ho mostrato come ho spiegato cosa è una strategia cosa sono le regole ho fatto vedere come da una strategia si possono derivare le regole abbiamo visto poi un'implementazione pratica attraverso l'uso di Fairbot e di un semplice bot per il banca pareggio con con l'impostazione di tech profit stop loss ovviamente bisogna tenere acceso il pc avere Fairbot sempre attivo se volete far girare un bot 24 ore su 24 esistono delle alternative si può installare Fairbot su una macchina virtuale in remoto pagando un piccolo abbonamento e lasciare automazioni sempre attive altrimenti se siete smanettoni potete divertirvi a installare windows su raspberry p e farci girare Fairbot ovviamente dovete avere anche una connessione internet sempre attiva a casa è una soluzione che vi permette di spendere 50-100 euro con un singolo pagamento e avere comunque un piccolo pc raspberry p praticamente un piccolo dispositivo che può essere usato come per farci girare delle applicazioni e se questo video vi è piaciuto iscrivetevi al canale e lasciate un like se volete che faccia altri video simili con altre automazioni fatemelo sapere vi ringrazio l'attenzione ci vediamo ci riaggiorniamo nel prossimo video nel frattempo vi auguro buon trading ciao